Iniziamo questo vlog in modalità homeless person, come dico io, nel senso che non mi sono fatta la doccia e siamo vestiti entrambi praticamente in pigiama con il capotto. Ho messo questo cappellino per nascondere la mia pettinatura che non è assolutamente decente. Ora stiamo solo andando un attimino, facciamo un salto al supermercato, prendere le ultime cosine perché appunto oggi festeggeremo il giorno del ringraziamento canadese e non c'era tempo per prepararsi e io non volevo filmare e Michael mi fa no ma devi filmare, scusa è un vlog, deve rispecchiare la realtà e dico scusa ma mi hai visto? Mi fa no ma devi e quindi eccoci, è colpa sua. I want to show them that we have an actual paper list, that we have an actual list, like physical list, like old people. Che mi è venuto in giro con la lista sul foglio di carta come i vecchietti. Non mi piace la salvia? No, non mi piace la salvia. No, I just, I cannot stay. Yeah, time is good. Timo mi piace ma la salvia proprio no. Rosmarino. Rosmarino. Rosmarino we have it but dried. Yeah. Cioè il rosmarino ce l'abbiamo ma è quello tipo nel vasetto, non è fresco. Parsley. Do you know what this is? Yeah, but that's fresh, we need to cut it, I have the one in the freezer. I think mine is ice cream. Oh yeah, vanilla ice cream. Abbiamo preso quasi tutto. Ci manca solo il gelato alla vaniglia da accompagnare alla pumpkin pie. Allora, Houston we have a problem. Il sacchino è ancora congelato, non sappiamo cosa fare. It's 36 hours in the fridge. Exactly, it's been two days. The struggle is real, eh? I told you, it's like the nightmare where like you think it's all there. It's going well and then you come out and you go to frozen bird. Il fatto che questi tacchini si vede sempre nei film, scusate Denver, nel frattempo qui c'è... Tu mi sa che senti il profumo di tacchino. Ha già fatto la pappa, Denver. Ma, visto che non avevo mai sperimentato questa cosa e Michael mi diceva, vedi che in tutti i film c'è sempre questo problema che il tacchino non si scongela in tempo, per il giorno di ringraziamento è un casino. E effettivamente succede, lo stiamo provando su noi stessi, non so come faremo, vi aggiorneremo tra un po'. In questo momento io sono l'aiuto chef. At this moment I'm your second chef. How would you say it? Sous chef. Sous chef. So what are we doing here? So it's sweet potato with brown sugar. Patate dolci con zucchero di canna. Canadian maple syrup. Sciroppo d'acero canadese. And then you just mix it up. Mescoliamo il tutto. E si forma tipo una glassa dolce sulle patate. Poi le mettiamo qui e le inforniamo. Nice and sweet. Nice and sweet. E questo sarà un contorno, uno dei tanti contorni al tacchino. So this is one of the side dishes for the turkey. Yeah. It's like a caramelized, candied potato. Sono tipo patate dolci caramellate praticamente. Il profumo è molto interessante, molto nuovo per me, vi dirò. Ma sembra molto buono. Vediamo come sarà poi una volta. Pronto? You're basically teaching Italians how to cook Canadian food. Like this is his responsibility. Yeah, I don't think they'll like it. Why not? They'll probably say it looks vomited. No, don't say that. That's what I say sometimes. Don't say that out loud. In realtà sta facendo tutto Michael. You're doing everything I didn't, ok. I need to put away this camera and help you actually. Comunque abbiamo fatto le patate che dobbiamo mettere a bollire. E sono semplicemente, cioè queste le faremo per for mashed potatoes, right? Cioè queste diventeranno pure praticamente. E qui c'è il nostro tacchino che stiamo cercando di scongelare e sperando che funzioni. Abbiamo pulito il tacchino. I gatti ormai hanno finito, ma tutti i resti del tacchino li stanno spazzolando con molta felicità ed entusiasmo. Do you want to tell them what you're doing? You can. You can tell them. Nicole's using a knife that she's never used before in an entire life, even though it's been in her drawer. And she's making the stuffing. Sto tagliando praticamente il pane a cubetti. Con un coltello che ho, ma non ho mai usato. Now you see I'm nervous because you're filming me. And that's how we ended up to the ER. Well, it can be worse than... Not Kylie, who was it that didn't know how to cut a cucumber? I can't remember. Kendall, Kendall. Can't be worse. Kendall who? Kendall Jenner. Oh, them. I've never seen anything with them. Not surprised, though. Nel frattempo ho pelato e preparato le carote. Non ce ne servono tantissime, ma un pochino di contorno con le carote. And his mother brother. Stiamo preparando lo stuffing. Yeah, of course. Lo stuffing per l'interno del nostro tacchino. Cioè, hai forgotten l'italian name for stuffing. Il ripieno, ripieno del tacchino. È con burro, timo, rosmarino e cipolla grattugiata, perché non mi piacciono i pezzettini di cipolla, quindi mai con la grattugiata. E il profumino, ragazzi, non è niente male, è veramente buono. E poi abbiamo preparato anche con il dado del brodo, un po' di brodo. Nel frattempo abbiamo lasciato 20 minuti i cubetti di pane che ho tagliato prima. E stiamo aggiungendo adesso il tutto. Abbiamo aggiunto anche un po' di burro in più. Adesso prepariamo il nostro filling. Sì, è delizioso. Adesso mescoliamo il tutto. Sì, è delizioso. E questo è ripieno. 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 C'era un extra R in there, ma... Oh! Non posso controllare i miei R. Ok, raccontaci come si fa. Ok, te la so come to do. Sì, sono le persone sbagliate che c'è un animale nel tuo video? Sì, spero che non. Sì, spero che è venuto qui. Ok. È solo per avere la pelle un po' buttata. Allora, prima abbiamo sbagliato. Tipo l'abbiamo tamponato con dello scottex, perché doveva essere completamente asciutto. E adesso stiamo semplicemente sciogliendo un po' di burro su tutto il tacchino. You do this because you don't want it to dry out and you want this the skin has to stay intact and if the skin dries out then the meat is going to dry out so you need to like add add the fat to it. quindi dobbiamo aggiungere il grasso perché non vogliamo che la pelle diventi secca altrimenti poi anche il tacchino diventa secco. But I'm not a chef this is... I have no idea it's my first turkey so... I figured this out in Africa. You're definitely more competent than me in this. Did you do your first turkey in Africa? No turkey, it was just chicken and we had nothing but chicken for a long time so... how to make it good on the barbecue and in the roaster so we didn't have like an oven or anything we had like a tabletop stove or whatever you call it. Praticamente stiamo passando il burro sotto la pelle del tacchino sulla carne on the meat but underneath the skin. Mm-hmm. Okay. In realtà dovrà cucinare tipo per tre ore e mezza una cosa del genere. Three and a half hours we said cooking time, right? Yeah. Time is it up? It's three o'clock. Yeah. So if we go to... even if it's four hours. Oh yeah. That's Italian dinner time. I look like a... I love it. I think you look wonderful. Thank you, my love. People are going to want to see that more than you with makeup. Maybe you are right. We should ask them. Dice che... Dice che devo farmi vedere di più in versione casereccia senza make-up con i capelli da lavare. Because we have a guest. I didn't say that we are... Lisa and Michael. stiamo cercando di... in realtà di ottimizzare i tempi per la cena perché arriva una coppia dei nostri amici e siccome appunto stiamo calcolando gli orari in modo che quando arrivino abbiamo tempo per un aperitivo ma poi la cena è pronta insomma per non aspettare troppo ecco. ok should be good bacon bacon adesso abbiamo preso il bacon pucciato un po' nello sciroppo d'acero canadese canadian e adesso Michael lo sta praticamente mettendo sotto la pelle dice che per gli stereotipi del canadale lo sciroppo d'acero non gli piace troppo associare ok aggiunto il ripieno aggiunta cipolla legato le gambe in questo strano modo ma ci siamo riusciti and now ok aggiungiamo l'alluminio come questo e mettiamo in l'alluminio come questo ok vogliamo qualche acqua per l'alluminio sai cosa dire? vuoi te lo so voglio penso che è buono avere qualche acqua per l'alluminio ok siamo inforniamo a tipo 220 gradi per tre ore tre ore stiamo preparando il mix per la pumpkin pie la torta alla zucca e abbiamo messo il filling che avete visto nell'altro vlog abbiamo aggiunto un po' di latte condensato e adesso stiamo aggiungendo il pumpkin spice mix che abbiamo trovato al supermercato e appunto abbiamo trovato questo mix proprio pumpkin spice che mi ispira un sacco perché potrò aggiungerlo anche tipo ai biscotti o allo starbucks quindi mi ispira un sacco e poi aggiungeremo questo alla nostra base nel frattempo in the meantime sto preparando i piselli con il prosciutto che sarà un altro contorno che è l'unica cosa che praticamente sono 100% in charge che è l'unica cosa di cui sono praticamente io al 100% responsabile sono i piselli e appunto ho aggiunto i cuberti di risciutto denver dice che è d'accordo sei d'accordo Bobo? benissimo nel frattempo ho preparato un po' di brodo da aggiungere ai piselli e li lasciamo cuocere profumino super naturalmente ho grattugiato per il soffritto ho messo l'olio la cipolla mezza cipolla grande grattugiata aggiunto i piselli aggiunto il prosciutto cotto a cubetti magro per fortuna l'ho trovato abbastanza magro e poi aggiunto sale e pepe non tantissimo sale perché il brodo è molto salato ok i piselli sono quasi pronti ma li lascio tipo a 95% di cottura perché poi più tardi li riscalderò finendo la cottura qui ho ancora un po' dell'acqua cioè del brodo che rimane per finire nel frattempo li copro quindi questo è fatto adesso stiamo preparando anche il purè Michael ha una ricetta sua you have your own recipe però li facciamo senza aglio perché alla nostra ospite non piace l'aglio quindi stiamo cucinando tutto a seconda e appunto senza senza aglio questa è panna da cucina al 20% smells really nice oh and we also added butter ci abbiamo messo anche il burro profumino buonissimo smells delicious è stato how long has it been in the oven for like 40 minutes or something like that dopo 40 circa 40 minuti adesso stiamo praticamente versando un po' di sughetto sopra e bisogna fare così circa ogni mezz'ora in modo che non si asciughi praticamente e nel frattempo sto apparecchiando la tavola lasciate stare questo che poi si toglie nel frattempo che il tacchino era in forno ho fatto la doccia mi sono truccata e vestita e questo è il mio outfit di oggi un po' un mix tra country girl e Cher di Clueless direi ok ci siamo quasi 38 ok ragazzi il profumino è buonissimo smells super good adesso ci siamo un po' di sughetto should I help you no it's just how you keep the skin intact and don't dry it out is it ready might be we don't have a thermometer so I don't know yeah next thing we need to buy is thermometer than that thing for the gravy yeah the baster baster is it stuffing? it looks amazing it looks amazing not bad actually no not at all this is my first turkey I was just gonna say like it's your actually first and it's you pay attention in the kitchen long enough I guess it's not big too soon smells delicious and I'm really hungry I think it's dried out a bit I think it's perfect smells delicious and we have exactly ormai is it a habit in my videos but it is though I think it's too the breasts might be really dry you think you have some gravy sauce which goes yeah exactly you see and then like the whole family would be there and there's like there's a lot more dishes there's all sorts of different stuff that's there and then you just big buffet table everybody fill their plate and then you're done you're like around cold by like 6 o'clock it's more like an afternoon late afternoon early evening yeah but this you try so much and don't make it no no if it's wrong I don't publish it now we're trying to write oh yeah I'm trying to write Lisa because I'm trying to write all the difficult things and we're trying to write happy thanksgiving and we have this is chocolate fondant and then we have chocolate white caramel and chocolate and chocolate and 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 look at that I think it's probably better suited for like insulating an attic but it is frigid for eating but yeah there's so many so many things I've never seen that yeah I think adoro ma sei tipo una pro and then kind of yeah what did you find in the shop as well no we just thought on the website oh ma dai meglio di quanto potessi fare io ti posso garantire vogliamo provare thanksgiving è lunga però hai ragione thanks brighine give I have a pretty good idea what it is like is it this it's stuck yeah it feels like a bag regular size bag of it they want like 43 euro oh man yeah for some popcorn popcorn yeah I don't like it's if you can get if you can somehow get around no this is like this is like this is like we can remove it or put it this no because it's not it's a little it's a little if you want I'll try it but believe me that you're the best you have a more beautiful it's got cheddar white cheddar on it and I told her look why don't we just buy like the like the popcorn eh because aspetta what's that well it's si perché rimane tipo hai fatto il miracolo da notare questa roba orrenda che doveva essere un cuore l'ho fatto io tutto il resto che è venuto bene l'ha fatto Lisa bravissima ci proviamo cara oh just like there right are you cheating she's just saying hello to everybody she's just happy and we had a lift so we just got on the lift e lei ti viene sempre in braccio però eh almeno una volta ti deve venire a salutare cara in realtà volevo volevo un attimo i just wanted to see oh it's recording yes it's recording ok ma volevo solo vabbè siamo tutti un po' ubriachellico no comunque la serata è andata benissimo sono mezzanotte undici minuti dopo tre bottiglie di vino una bottiglia e mezza di Aperol ma perché sto parlando di alcol in realtà la serata è andata benissimo abbiamo mangiato stra bene veramente quasi tutto il tacchino ci siamo pappati quindi sono molto molto contenta sono piaciuti tantissimo anche i piselli mi è piaciuto tutto ci è piaciuto tutto il nostro primo thanksgiving e basta insomma volevo in realtà chiudere il vlog ma ogni volta che apriamo una bottiglia di vino facciamo un po' e un po' giochiamo a basket praticamente di solito faccio il canestro però ovviamente adesso che sono in videocamera non ci riuscirò usually I make it I was saying but obviously now that you're filming me I won't be able to do it but let's see it's your turn now it's one one wait ok go we had too many spritzes that's why you have to go further focus it's horrible no you're fine go usually like I usually can I usually can on the day for me what this is my turn you cheater it's my turn it's gonna be against the wall go try again no way ok that's it that's it for today we're done we're done ok ok ragazzi adesso mi cambio poi penso che ci mettiamo a guardare un film o qualcosina su netflix e probabilmente crolleremo perché sono distrutta veramente distrutta e sono talmente piena che veramente ci sto per esplodere abbiamo fatto pranzo e cena in un unico pasto veramente sto rotolando praticamente comunque adesso mi cambio metto il pigiama comoda comoda vado a struccarmi e questo è quanto per la giornata di oggi spero vi sia piaciuto questo video mi avete chiesto quando abbiamo fatto l'altro vlog in cui appunto abbiamo fatto la spesa per il giorno del ringraziamento mi avete chiesto in tantissimi di farvi il vlog in questa giornata anche se non avevo pre non mi ero prefissata di filmarlo ma ho visto le vostre richieste quindi ho voluto assolutamente farlo quindi mia family questo è quanto per il video di oggi vi mando un bacio enorme come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e come sempre vi aspetto al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti